Salve da noi, eccoci qui, un nuovissimo episodio, siamo su Dender's Cross 4 Oblivion, io sono Larax di Cormarys e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'inizio delle missioni principali E in particolare con la missione Una trappola per topi migliore Ora invece dobbiamo fare Innescare la trappola Perché appunto di fondo Sedilian viene usato come dungeon Per attirare gli esploratori E fondamentalmente farli morire dentro Ora invece dobbiamo vedere Sì per curiosità guarda qui il dettaglio del lampadario Dicevo ora invece dobbiamo appunto vedere Le trappole che abbiamo attivato Perché sì c'è anche la parte Come vedete Raccontami di questo luogo Interessante dimmi di più Ma no io voglio giocare Perché quando si uscite Questo Ok Cosa dovrei fare Beh comunque ce le facciamo dare da lui Almeno una versione diversa As the adventurers make their way Through Sedilian's chambers They will encounter choices That you make In these control platforms All you need to do Is decide what becomes Of the adventurers Will you drive them insane Or will you pull the life From their bodies Beh perché devi farli impazzire Spiega le mie scelte Allora avevamo già letto il manuale Nel scorso episodio Ed è quella più divertente Ti occupi tu del grosso guadagno Come faccio a sapere Quando ho finito You'll know you're done When they lie dead on the ground Or they are out of their minds Of course Any of their possessions You wish to keep Are yours for the taking I'll make sure you get them When you're done Ok Come eseguo la scelta Beh premendo due pulsanti Ok sono informazioni sufficienti Camera Ok 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 Questo è il suo passato Ok O If you're feeling merciful We can have the group Terrorized by a seemingly lowly Now that instantly grows To twice their size The hallucinogenic spore gas We release into the chamber We'll help lull the victims Into believing the creature Means to kill them Don't worry It's bark is far worse Than it's bite Hmm Istruzioni No Dicionatore di giudizio Beh il richiamo delle serie Nei già abbiamo giudizio To find the cream of the crop As he calls them The best of the worst To populate the isles Quite clever eh? Sì effettivamente sì Non me lo aspettereste Da un dio folle Ditemi la verità Ok Fondamentalmente quindi Siamo alla prima camera Loro non ci vedono Chi è essa E stanno arrivando Now keep your weapons ready And watch your backs Do what I say We might just get out of here alive Ok Ok Ora abbiamo la prima scelta Mi sono attivati Per sicurezza leggiamo sempre il manuale Per spiegare più informazioni possibili Ehm Ciascuno ha incontro Camera della conversione Una stanza quasi vuota Con un'imponente grata sul pavimento Un singolo inoffensivo Tra virgolette Pegnaldi Dimensioni inferiore al normale Che cammina al centro Risultato maniaco Il piccolo gnaldi inoffensivo Cresce fino ad essere quasi Il tripo di un normale ospite Di Xedilian La maggior parte Dei ospiti Inizia a correre da una parte All'altra Nel tentativo di scappare All'enorme creatura La fine si ferma E scompare La magia della stanza E' amplificata dal gas Aspore Che viene pompato Attraverso la grata Risultato denomente Il nostro piccolo amico gnaldi Viene raggiunto Da un gruppetto Di suoi fratelli E insieme attaccano I nostri meravigliati ospiti Geniale Geniale quanto nervioso Vai giù di mania Sì Nial gigante Ah non dice nulla W-What in oblivion Is that thing Ha 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 This is one of the Horrid guardians Of which the story spoke Be careful There may be more To this creature Than meets the eye What a joke Let's be rid of this thing And continue on our way Are my eyes playing tricks Or is the creature Growing When will it stop It could devour us Run for your lives Guarda che coglioni Che corrono tutti Guarda qui Tu cardini Algo non è certo Allora Questa volta Era solo un'illusione C'è un'illusione C'è un'illusione Guarda C'è un'illusione C'è un'illusione C'è un'illusione E' un'illusione E' un'illusione Non fa nessuno Deve essere morto Oh C'è un'illusione Penso che questo posto L'illusione Potremmo No Siamo prendermi L'illusione Deve essere morto Ho scatenato Ogno al gigante Contro gli avventurieri D'Xedia Leowin Leowin Il fuffante Impazzito A causa di ciò Che percepiva Come una minaccia Di morte certa Nei suoi confronti Dovrei trovare Il modo Di raggiungere La prossima stanza Di osservazione E decidere Come gli avventurieri Incontreranno Il prossimo ostacolo Loro scappano via Verso la prossima stanza Non mi puoi assistere Finito You're doing quite well So far Keep it up Ok Ok Come and I Come and I The second chamber Of Zedilium Is the chamber Of Avarice The adventurers Will have to Overcome their Feelings of greed As they set Their eyes Upon the huge Piles of treasure Locked behind That gate You may choose To spring a fire trap And cause them Great harm As they stand before The gate Or You can fill The chamber With hundreds Of keys And watch them Franticly search For the correct one Always a crowd Pleaser Soprattutto Dovrei vedere Chi richiede La chiave You're doing quite well So far Keep it up Ok Ah ok Quindi quella È la camera Piena di risorse Sembra quasi Una di Crash Royale O Crash of Splend Ok Abbiamo la scelta Ma io vi dirò Più che la solita Trappola di fuoco Veramente Te l'ha chiesto Perfuna risposta Vi direi che salviamo Prima a vedere La trappola di fuoco Però ammettiamolo Sarà molto più divertente La trappola Sono morti entrambi Soprattutto Sondelius Non so chi ha costruito Questo nightmario Ma se ho portato La mia mano Soprattutto Una trappola di fuoco Gli ultimi due Venture di Siree Il mago Non è sopravvissuto Dalla raffica È solo Grum Il loro capo È rimasto in vita Per trovare il modo Per raggiungere L'ultima calma Sì È così triste Magari possiamo dire Pure che è morto Con onore Salvando il suo amico Dai fallinciamo Di impazzire Il caj È l'opera Grumlock Guardate Guardate L'uomo Guardate Questo è troppo buono Per essere vero Se solo Luin Eravamo qui Potrebbe arrivare A questo In non tempo Provate il mago subito è cambiato Guarda lì Guarda La chiesa, uno di loro deve aprire la porta, siamo ricchi Siamo fuori da qui, Cyndelius, questo è ovviamente un trucco per costruire il nostro tempo Lo vedo quando lo vedo, sì, deve essere qui Sono tutti falsi, vieni con me ora Trovandolo, sì, devo trovare la chiesa, ricchi, prima di tutti i miei sogni Ok, è impazzito Ho fatto impazzire Cyndelius sul mago, cercando a terra centinaia di chiavi Blah, blah, blah Ok, ultima stanza Vorrei leggere le descrizioni però Cioè alla fine ci dice le stesse cose che dice lui Fia 7, camera dell'avarizia Blah, 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 raggiungo la cima dello ziggurat Facciamo esplodere con incantesimo a quanto violento L'espressione di solito gli fa volare, un gran divertimento per tutti A parte per coloro che non riescono a sopravvivere Camera dell'anatema È l'ultima Ok Che strozzo Camera Però sono tre camere, un po' poco Oppure E vedete, mania rimarrà sempre e comunque per me più bella di Demenza E tre volte più divertente Cioè andiamo, hai una camera piena di morti Vivere, viviamo i morti Che tristezza Mamma mia tutta la vita Cioè perché sì, rianimiamo i morti, lo uccidono, yeah Ehm, oppure lo facciamo impazzire Beh sì, per gli occhi, per gli occhi è importante Non è possibile, questo è impossibile Grimawke non ha perduto una guerra Non ho mai perduto Non ho mai perduto No, questo è tutto vero No, nulla di te No, nulla di te Che nemmeno si potrà Tornare magari con altri avventurieri Questa è una cosa che secondo me potremmo fare molto meglio E sarebbe stata ultra divertente Cioè avere la possibilità di avere più camere Magari anche un pochino più semplici di queste Però dove arrivano spesso avventurieri Sì Tipo Che sento Che sento Non ho mai visto nulla di questo Ma potrebbe il suo giornale Può dare un'informazione più utile Prima di questo Prendi qualsiasi che hai bisogno Della cesta di recuperazione Tu hai ottenuto Tu sei libero di andare Nel momento Certo Sì Buona luce a te Ok Ok Ha munito di complicità Onello Possiamo incorrigzionante di corrigente Il pochino Perla Perla Imperfetta Che cazzo sto vedendo Eheheh Ehi Beh 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 Non così Allora, credo che sono impazziti No No Porco giuda Ecco la grigia marcia Preferisco evitare di usare incantesimo Perché qui potrebbe essere un serio dramma Porca troia Eh sì, PS, sono più forti di quello che siamo Passino assurdo Dai Questo è il più che puoi fare? Questo è stato abbastanza una battaglia Spero che sei non impazzito Oh, che carino che sei Tu non ho senti le leggende? Come potrebbe essere? Questi beings, come tu chiamati, non sono beings ati Sono le soullessi abominazioni Knowne come le Knights of Order Vabbè, qui non c'è stato il sottotitolo Il problema è rimasto sempre quello Ci ha detto fondamentalmente Vai da Shogora Ti avviso immediatamente Che sono tornato A favore di Gigala Che loro hanno le spade Spada pura Spada perfetta 24 Spada pura 20 Eh Spada pura 20 Perfetta Invece è un pochino più alto Dai Però di questa ne troveremo a buttare Quindi Ma in tutto questo Lui mi ha dato una spada nuova Giusto? Sì Zanna del Crepuscolo Lama del Nutrimento A colpo E questa è la bellezza Che come vedete È blu Però va in base all'orario Perché di sera è blu Infatti ora è sera Cioè deve ancora sorgere il mattino E al mattino diventa rossa Quindi al mattino fa danni da fuoco Alla sera fa danni Eh Da ghiaccio Prima di dargli una riparata Per vedere quanto di fatto È forte questa Quest'arma Mentre mi dice Ci siamo Diamo una riparata A tutta l'armatura E nel mentre mi devo Riforgiare tutta l'armatura Visto che ce l'abbiamo In metallo Folle Anche perché del resto Vedere un cazzo di crociata Neshaveri Island È un po' una presa per il culo Diciamocela Ora Qui abbiamo i nostri Tre pazzerelli amici Che credo lì Rimarranno un po' A stagionare Fino a quando Non sono pronti Per ritornare Comprendere la follia Perché dovrei farlo È la domanda Ok Si esce di qui Di qui cosa c'è? Per curiosità Ah beh Lì dove stanno i Nexus Praticamente Ok Eh sì Questa praticamente È la sala Prima del primo Nexus Vedete Sono comparsi Questi fantastici E mirabili cristalli Possiamo uscire Ok Si ritorna Al palazzotto Magari aspettiamo anche due orette Meno le otto Ecco Meno un po' tutto E vedete Zanna dell'alba Appunto è cambiata Tra l'altro fammi vedere Quanto danno fa Visto che mi ero già dimenticato La spada del crociato 47 Ed è a 125 Zanna dell'alba Invece no Perché giustamente È cambiata Però già così Fa lo stesso danno Quindi teoricamente Se io la riparo Potrebbe fare Molti più danni Fa sempre 47 Non è aumentato Però Ti dirò Ti dirò Prima di tutto Ha più cariche Danno magica Danno fuoco 14 Per due secondi Questo 15 A colpo Direttamente Molto più Fa per zanna Dell'alba Però dobbiamo vedere Sempre la lama Della follia Potenziata Visto che abbiamo La matrice Della spada Come vedete Qui nella sala Intorno Ha dei Piedistalli Questi piedistalli Praticamente Potranno contenere Dei oggetti Nel momento in cui Qualcuno Le aggiungerà Come vedete Testa della replica Del guardiano Perché abbiamo ucciso Il guardiano Dì lì Il coso focalizzante Perché abbiamo riattivato Xevilian E ora Prima di parlare Vediamo Cosa ci dice Ti hanno inculato Perché pensi Che sia così stupido No Ci sono riuscito Di nuovo Le funzioni Così di nuovo Le funzioni Cheese For everyone Questa è una frase Iconica Praticamente Come niente formaggio No io voglio il formaggio Foti di strato Oh zio Per aiutare In i tuoi viaggi L'ho conosce Molto Più 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 Piccolo Mollo In realtà Dicelo E' un provato Summono Nel mio amico Ora Aspettare Credo che Lui voglia Tutto Fuorché Essere Chiamato Ehm Tocco Come si rivede Dove cazzo È l'incantessimo Però Dove mi è messo Di incantessimo Il mio caro Asciugora Non si capisce mai Un cazzo Di Evocazione Dove troverò Anche il momento In cui mi dice Evoca Cazzi e mazzi No Questi no Qui Dremora Curfante Scheletro Galleggiamento Guarisci Cancelli La mano del maio Ma se Sarò Ricoglionito Io Ma non lo vedo Sia 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 Vede il guardiano Eh ma Vaffanculo Chi cazzo L'aveva visto Ciao Asky 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 Che cazzo Che cazzo Invece no Non ho finito Ti chiamerò Ancora Ricompari Eishbem Vedo che Un'ultima volta Un'ultima volta Vi giuro Un'ultima volta La smetto Shbem Ok lo sa fare Chi è Gigalag Si comunque Non funzionerò Fuori Non funzionerà Fuori Le Shbem Chi è The Daedric Prince of Order Or Biscuits No no Order And not in a good way Bleak Colorless Dead Boring 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 And not a fan Of my work I can tell you Hates it Hates me A bit single minded If you take my meaning You've seen his nights Not the warm And cuddly sort Not a bit Of original thought In their Lifeless husks So You're going To help me Stop Però qui c'è un tassello Che non torna Perché un altro Principe Daedrico Dovrebbe invadere Un altro piano Ok il Nier Ma il Nier Ma il Nier Non ha questione a parte Cioè sarebbe Siro Di Skyrim Tamriel Per intenderci Cioè in realtà Non è solo Tamriel Ma tutto il mondo Vabbè Ma perché Un principe Daedrico Dovrebbe Attaccare Sheogorath Ok tu dici C'è il principe Dell'ordine Il contrario dell'ordine La follia Però in un certo senso Ci sono molti altri Principi Daedrici Che possono essere Considerati l'uno Il contrario dell'altro Io? Come? Tipo? Cos'è la grigia marcia? Eh già Ed è verissimo Ed è verissimo Si è conclusa Nel momento in cui Martin Si è sacrificato Per uccidere Mol Cioè per uccidere Per rispedire Nel suo Nel suo Regno Dagotur Sì Dagotur Vabbè Ciao Avete capito Cosa mi chiederesti Ora Eh no Stai per sapere Che brutto Tradotto male Imparare Imparare Cosa Ok Ma certamente Ad ogni modo Signori Fatto ciò Sono costretto A rammentarvi Che il tempo è tiranno E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao Ciao Ciao